benvenuti amici del tubo qui qui il vostro nico organ insieme a dovresti riconoscere mai dalla mia fottutissima voce dai in coro il motocchione mai si vabbè stai parlando quindi no volevo prendere quello di ghiacci bello incominciamo bene è bello aspettate vettate com'è incominciato manconi forse non era male che stavo io ho stato io o state ho stato io ho l'utrattore chi è il cornuto prendi il cornuto perché essendo un abbo quello di 99 non fare il 99 ecco essendo new boy avendo avuto il gioco solamente uguale via di hominid alien hominid no forse male che faccio la partita o sennò la chiamata qualcosa avendo avuto il gioco solamente oggi sono un abbo quindi io solo sto personaggio bombato e basta al 4 io non ne ho nessuno bombato sicché minghie aspetta allora prendo quello di fuoco io c'ho livello 4 sì sì che abbiamo capito questo video non sa da fare né ora né mai e per gli altri o permettiamo la colonna come contenuti extra nel dvd e non faremo Nelle cacare di cacare Vediamo quanto sarà noioso O divertente un video fatto così Esatto esatto La gente si scazzano ai coglioni E dice basta vado a vedere Bartucci Che fa Però aspetta ragazzi ve la posso Sogliera una cosa Mamma te punto sorte Il nostro franzo Il mitico franzo Il mitico franzo che aveva perso La password del suo conto di post e pain Chiama l'operatrice Per farsi ripristinare la password E l'operatrice gli fa Eh si la password precedente Era mamma te punto Quella è una moscia Dire si si è quella Quella Quelle sono le super kick Vedete c'è la rossa una verde E la bimonda Sono le super kick Adesso se le portano dietro a farci fare i pompini Un video tutto laggoso Quanto sarà falloso Fate qualcosa di meglio Chiudete il video e andate a vedere qualche youtube Perché youtuber decente Io sento possibile laggare su skype sebo Ma no Ma si Ma ok Ma no ma summa summa dai Ma no ma summa summa Minchia quella lì non c'ha la token facile Ragazzi ma potevamo installare Mugen Facevamo prima Allora Allora Gubi Gubi Installa le Gubi Gubi please Gubi Gubi please Gubi 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 Io ho una cosa che voi non avete La vagina Che non so perché me lo aspettavo Ragazzi Ma anche Stavo prendendo il pene Poi ho detto no Che noi ci freghiamo noi Ma non è scossa Perché non funziona Perché porcaccio Avere un cugino Mattacchione Madonna Cosa Ho detto Una cosa che nessuno ha E' avere un mattacchione per cugino Allora Eh cugino Eh cugino Tanto che Che miglia Che risata a burnout Chi era Gonza Quello che si è scantato con l'altra Allora La racconto Allora Immaginate Anzi Dovrebbe essere il secondo Final Destination Quello dove c'è un incidente in massa In autostrada E' successo praticamente una cosa simile Eravamo Sette giocatori In una curva Ci siamo scantati uno dopo l'altro La cosa per solo è stata che Un nostro amico Si è scantato Contro Una macchina E contro un autobus L'autobus Si è dirottato Nella corsia opposta E ha fatto Un disastro Un disastro La Final Destination Nella serie Si è destinato a scantarti Per forza Io e se eravamo ultimi Quindi abbiamo visto la scena Tutta come Come erano Io stavo piangendo Mentre guidavo Perché sentivo Dove mi sentite a ridere Sarla è diverso Dovete vederla la scena Dovete sapere che il fulcro di questo video Non sarà il gameplay in sé Ma le minchiate che diremo Le nostre strontate Esattamente Perché Così potete dire Sono stato con Il 4UpGamer Allora Ho scolato una moneta Laggi in fondo Mi sa Vabbè Sto abbassando il volume Perché sento un casino Siccome Franz è a Napoli Ora non è con noi Ecco Però io L'ho convinto Siamo più i 4UpGamer Siamo i 5Gamer Però Siccome Franz Che metterà giù L'ho convinto A comprarsi L'Humble Bundle Di origine Ho detto Spendili Un euro Per un bundle Così che lo metti Ho raggiunto il limite Del Super Saiyan Il limite Del Super Saiyan A me A me una cosa Che mi fa incazzare Che la gente Mi scassa i coglioni Per giocare Poi quando vado Faccio un video E dico Che organizzo Cose Per giocare Tutti insieme Non scassa La minchia Nessuno Quindi Vaffanculo Detta proprio Quindi siete pregati Di Quando vedete Un utente Magari Che gioca Un altro gioco Non tartassate Gli inviti E spammate Perché rompe La minchia Si gioca A competitivi Di CS2 Esattamente Perché rompe La minchia Quando poi Faremo degli eventi In cui sarà prevista La presenza Di molte persone Per giocare Tutti insieme E divertirci Siete pregati Di partecipare Perché più siamo Meglio è Ci si diverte Di più Prima scassa Per esempio La tombola Noi faremo L'evento tombola Di figura Quindi Faremo l'evento Del torneo Di bocci In spiaggia Prenotatevi Summer 2014 Evento Del torneo Di bocci In spiaggia Venite tutti Bocci inteso Cioè Portaci con le donne Esattamente Sì Facciamo il gioco Sguardo di pietra Come cos'è detto Aspetta Sguardo di pietra Sguardo di pietra Poker face Sì Praticamente Ci sono Quello del tavolo Quello del tavolo Un altro nome Alzi C'è qualche ragazzo Le ragazze Fanno quello che devono fare Sotto Noi dobbiamo La poker face Per mettere le reazioni In poche parole Dovremmo evitare Di fare il macco nero Dipende dalla bravura Di chi si propone Come volontaria Il gioco sarà difficile O meno Il soldatino Di piombo Sta cercando di andare Sui compagni Libera Respirazione Bocca a bocca Libera Libera Sì Con questo lag A voglia Respana dopo tre giorni Come Gesù Cristo Sono chiamati versus the lag Immaginatevi una conversazione normale Alla macco nero Buonasera Io avrei pronto Cellula La pubblicità di Panariello La pubblicità della wind Di Panariello Va lì Cercavo un telefono cellulare Ma che cacchio Ma che schifo Sì Sì Vieni qua Sì Ma ti supero Ora c'è la riete Ora c'è la riete La riete Attaccatelo Qua c'è da saltare e spammare Gli attacchi Io ho avuto Adokin 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 Fate l'attacco Adokin 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 Mi son perso Dove minchia sono Non mi vedo Ah eccomi Scappa Cerbero E quello che state vedendo Non è lag E che il gioco Propone dei fermi immagini Così potete concentrarvi Sulle nostre tattiche pro Vedete Così imparate dai migliori No non è vero Però Però da un conto Ah io c'ho A livello 99 Minchia ma investito Vashtal Miacca Eh coi noto E poi quando fai Adokin Talia Che distruzione Eh lecca lecca Sembra L'allarma del paio Di Pairland Sì di Lecca fetta Lecca fetta Sì ecco Il lecca tipetta Quattavo Dopo questa Spera che Non veda questo video Eh vabbè Chi se ne pote Glielo linkeremo tutti Glielo linkeremo tutti E andiamo partiti E lecca di fetta Dai un saluto Un saluto a Tifetta Se porterà questo video Comprano tutti Lecca di fetta Aspetta che arma è Non sai più cosa leccare Lecca fetta Che proprio oggi Aveva fatto un post Dove consigliava di comprare Castle Crash Visto che era scontato Però Vedevo il gioco com'era Era bellino E l'avevo pensato di comprarlo E un fan me l'ha regalato Quindi un ringraziamento Anche a questo fan Grazie fan Compramelo anche a me un cellulare Con la suoneria di Marco Nero Se è possibile Quando ti chiama Un appuntamento con una ragazza E fa Sai Voglio dirti per la prima volta Ti 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 Eh, cazzo, fate i Dark e tu Eh, so che mi tocca magari Perché Devi sapere che nella versione craccata L'avevo 711 Con tanto Questo craccone di un seba Ma questo craccone di un seba Guarda, la monettina, la scuola della monettina Ah, fuck E' bello che l'avevo potenziato con tanto di glitch Sto glitch abuser Sto glitch abuser, vai Era i glitch delle 10.000 anime E basta De 10.000 young Era quello Era quello del cimitero d'Hartorias Ma poi dopo non si fa più perché Poi te ne richiede troppe E sali in massimo di 70 No, mettiamo un attimo che se non fosse stato per il lag Noi avremmo finito da tipo 3-4 minuti Esatto Anche di più Quindi Vabbè, sì Avemmo più tempo per concentrarci sulle cavolate Ecco, ora c'è il bossone Ora c'è il Che poi verrà distrutto Tutto tutto nella bucca Giusto per fargli fare quello che piace a me Mi piacerebbe che fosse questo il boss E invece no La ridore è mia Minghie Un troll sotterraneo Io vi ho perdito Mi immagino la scena Mi immagino la scena col professore Che fa la marconerata Oh, la marconerata Oh, io sono troppo Mi scusero Kaisoconi Minchia, mi ha tirato un cazzotto Kaisoconi Sì, ce la come Dillo che ce la come Sì, ce la come Sese vuoi Dillo Sese vuoi Dillo Dillo Pasta Un attimo Non è Un attimo Scatto 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 Sì, come fai a schivare Costola Managgia Clero Scatto 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 Ciò che qualcuno ha chiuso Scatto 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 Se state ancora ascoltando queste parole siete fedeli rimanete a guardare i video fino alla fine nonostante lo schifo di materiale Il complimento con voi, avete la mia stima Continuate a vedere che a fine video ci sarà una bella sorpresa per voi Proprio da un mattacchione Mi auguro non c'è il pene, quindi va bene No, e qua c'è bannano tutti da YouTube, gente Scatto 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 In giocabile però Se про Nonostante tutto Scatto Pagano Scatto 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 Spuzz Ma quando non uscirò di casa per diventare un cavone di Cast potion Scatto ma Pagano Venora Scatto 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 ce l'ha messo un'estate al mare voglia di mattacchionare il punto che dovrà puntare la caccia vocale di schieno più cascari minchia si è congelato sulla pezza che mattina sulla testa caro di schiacciato l'oro laghi di minghie laghi di minghie per la gocce grazie non sono mai stranemmi nervoso minchia portiamo le nostre connessioni a far un giro a me giugorio porca broia questo boss finirà nel 227 cazzo di barco, tipo quando avremo 40 anni l'uno non ho una pozza, no, non ho una pozza che metti ma io dove cazzo sto... ah tu volai sto pure morendo, perfetto se la giunghi... minchia si è congelato sulla faccia bellissimo cheplicio sto sotto terra sei una troppa sto scorreggendo tra poco morirò, lo sappiatelo però... lo sappite sapevatelo alle ragazze sembra niente ma veramente duro di un carico di c'è presente una minchia dell'attore porno che si prepara la scena ecco più dura di così che schifo la mattina più svegli è persino più dura di così è difficile davvero è più dura di un masco nero che si sveglia una macchina perché uno dice vabbè ci sono i fermi immagini uno dovrebbe essere in grado di prevedere le mosse del boss invece no perché una sega una sega non è l'attività o aiuto porto per capo appuntare più tempo brutta io vai schiavetti raccoglietti d'arte io te lo decido le tappi almeno questo qua non vuoi dirigere il combattimento sta presto per un paio di amore rotti niente dopo solito di lui attacchiato un pelo di vita se mi salvo con un grano non si fa chi era denaro denaro il denaro il denaro se riusciamo ad aprire lo scrigno prima della fine del video ci fate un bocchino a testa vorrà dire che il video non finirà finché non lo apriamo a fai 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 c'è stato un'altra cosa che si fa è rimasta solo una delle sue chicche la società di sono ma che caso mi ne frega a me di quella mia sarà mio ma devo chiedere eh c'è un pelo di vita che fa che fa comunque c'è anche un achievement che per sbloccare l'achievement bisogna avere dei baci dalle principesse online quindi se è un achievement difficile potete mettermi d'accordo con i vostri amici per che schifo si bacia la vesca potete mettermi d'accordo con i vostri amici per toccare la C pensi ho un po' da lezzi però come ultima risorsa appena come ultima risorsa più ex di tutti yes io quando ho preso l'esperienza sbloccato o no personaggio già il soldato di piombo mamma mia che personaggio mamma mia mi dispiace dal fatto che mi dispiace il fatto che è un gioco così basso a questi problemi di no sociali volete continuare voi se ho fatto una fatica fai il primo livello vabbè dai salutiamo vabbè poi non è questo livello sennò qua la gente se non fa la minchia e dice minchie e dice minchie bene un saluto a tutti i nostri amici di youtube complimenti a che rimasto a guardare questo schifo fino alla fine come promesso il regalo è che potete aggiungermi su steam monkey di mattacchione minchia mi aspettavate megan fox a casa vostra invece no giocate come metteremo pure il mio ricontatto di steam vabbè mettici anche il mio che è lo stesso anche se mi sgamano lo stesso ma non lo so come però mi scrivono lo stesso metteremo 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 i nomi steam nella descrizione del video ma si dai un salutone da parte dei nekorg e tutto il resto della banda e seba cantastore vabbè si minchia della faccia ciao ciao